Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Ma io ma nessuno ha fatto una clip. Fate una clip quando vado veloce con la macchina. Nessuno ha fatto una clip. Io vado e mi metto a centrale a vendere il caso. Sì, sì, va bene. Ma posso non lo hai. Prova a metterla sulla corsa della compagna. E poi è importante FIFA. E poi è importante FIFA. No, nessuno è chiuso a merito mod. Ha già lavato tutti i moderatori. Tutto quanto. Tutto quanto ha già lavato. Tutto i moderatori. Tutto i moderatori ha già lavato. Non ne va qua. Intervento comodo del portiere che recupera il pallone. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Facciamo nevole a due. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Sfugge qui al difensore. Falla in rete. E adesso sta diventando veramente imbarazzante la distanza. Non credo ci siano dubbi. Su chi vincerà questo match. Bisogna solo... Ho metto con l'ho metto. Ho metto con l'ho metto. Ho metto con l'ho metto. No Oh pronto perché vedi se noi parliamo si sente la voce di ritorno mamma quanto tempo che sei dormuto madraci? 4 e 5 minuti per momento 5 minuti oh madonna mia e come la maschita a mo? no 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 ma va giù è buono un anno è buono dai che provo per tiri? è visto che ha fatto? è sì che ha fatto eh sì che ha fatto Averso, sul reddito! E' registrato pure questo, si! Buonasera, sono Federica Ma chi è? No, stai qua, stai qua, andrò qua! No, no, c'ho Johnny! Andrò qua! Come stanno le cuffie? Ah, cos'è che sta dicendo? Sento che sta muovendo la corsa Tu sei scema! Lascialo! Vieni qua! Fagli fare un bologer! Vieni qua! Guarda qua, guarda qua! No, non lo devi sfrugere! Già passo! Non ti passo! No! 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 No cazzo! Ero più! No! Fai! No! Ma tutto cazzo Ti ha portato Gesù Cristo Solo il sfortuno mi ha portato questo Gesù Cristo nella casa Solo il sfortuno Non è affaticato Non è affaticato Eeeh si manca Allora Aiellus manca E poi manca Ma sei scema E' fatto bocciare Non ti ha mai visto Ho detto ma ci fa mettere paura Ma c**o ti Si opera stamattina Operatorio Facci alcuri Facci alcuri alla famiglia Un bacino da parte mia e dove sta solo l'alternatista solo bio del giocatore tagli giocatore tagli attributo stili giocatore in dettaglio il giocatore scusate scusato poi impacciato è sia di a s ma non è tanto ogni di sicuro purmente sto chiamando ma che cazzo la parola una cosa allucinante è una cosa allucinante matino notte sera che sangra ma non è pure mentre sto futtendo ci mette una pezza il portiere ma non è finita ma che ha fatto del trasporto il giocatore non avete visto che ha fatto ma come si è spostato va giù clippate 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 va giù clippate palla che torna in possesso clippate